però stamattina volevo parlarvi di qualcosa che ci può anche aiutare in senso più largo a ricevere al meglio la parola di dio anche nei prossimi giorni vorrei parlarvi della l'arma più potente del diavolo e vedremo qual è la sua astuzia la sua strategia più forte quella che purtroppo fa breccia nei cuori degli uomini molto più facilmente non sono le possessioni demoniache non sono le manifestazioni non sono i falsi miracoli o queste cose qua che anche fanno parte della sua strategia ma vedremo qualcosa di molto più profondo molto più sottile è un po di anni fa un certo evagrio pontico che è stato uno dei padri del deserto e lui ha scritto cose molto interessanti tra cui fu il primo a coniare questo che lui chiamava i tre nemici del dell'uomo del cristiano potremmo dire il diavolo la carne e il mondo adesso la nuovo testamento non li elenca così ma se leggete un po tutta la bibbia è chiaro che questi sono i tre nemici principali della nostra vita e non abbiamo il tempo per guardare tutte e tre forse potremmo farlo in qualche altra occasione ma voglio guardare quello che è il primo il diavolo e vedremo in modo particolare la sua strategia più forte che la dividerò in due parti la prima parte della sua strategia è rubare la verità quindi parleremo di come il diavolo lavora nelle nostre menti avete visto già dalle immagini no all'immagine c'era questo demone che cercava di innaffiare seminare no nella nostra mente la prima strategia è quella di rubare la verità prendete luca al capitolo 8 leggeremo la famosa parabola che spesso viene usata per i non credenti no quando si predica il vangelo ma secondo me può essere anche usata nel nostro caso come già credenti della prova di dio che continuamente arriva nei nostri cuori nelle nostre menti non è solamente la prima ricezione anche quello sicuramente quindi vedete luca 8 chi non c'è la bibbia potete seguire da dalla proiezione famosa parabola di gesù del seminatore dice che il seminatore uscì a seminare la sua semenza e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada fu il cappestato e gli uccelli del cielo la mangiarono un'altra cadde sulla roccia appena fu germogliato seccò perché non aveva umidità un'altra cadde in mezzo alle spine le spine crescendo insieme adesso lo soffocarono un'altra parte cadde in un buon terreno quando fu germogliato produsse il cento per uno dicendo queste cose asclamava esclamava chi ha orecchi per udire oda poi saltiamo al verso 11 perché i discepoli si lamentano un poco gesù dice ma che stai dicendo e gesù spiega cosa significa il significato infatti della parabola dice il seme è la parola di dio quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati quelli sulla roccia sono coloro i quali quando ascoltano la parola ricevono con gioia ma costoro non hanno radice credono per un certo tempo ma quando viene la prova si ritirano indietro quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità e quello che è caduto in buon terreno sono coloro i quali dopo aver udito la parola raritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza gesù in questo caso non sempre lo farà da una spiegazione proprio precisa il seme quindi è la parola di dio e il seminatore in questo caso è gesù il suo spirito che semina la parola nei cuori delle persone che lo ascoltavano in questa mattina o ogni volta che ci raduniamo davanti alla parola di dio per ascoltarla o personalmente quando studiamo leggiamo la parola di dio riviviamo questi momenti e come i pericoli che hanno queste persone in questa parabola così le abbiamo anche noi quindi la prima cosa che dobbiamo comprendere come credenti e penso l'abbiamo già capito ma è buono che ce lo ricordiamo è che noi siamo in una battaglia per la per ricevere la parola di dio ci siamo non prendiamo la sottogamba questa cosa perché la parola di dio per entrare nelle nostre menti fa una battaglia se avete notato la maggior parte dei casi la questione non funzionava la maggior parte del seme che veniva sparso non è andato a buon fine dei quattro casi che vengono citati da gesù solo l'ultima è andata a buon fine e dice nel primo passaggio dice che la parola va viene lanciata però poi viene calpestata e vengono gli uccelli e che si derubbano rubano mangiano il seme che è stato piantato o che voleva essere piantato perché ho letto un po come funzionava l'agricoltura dell'epoca il seminatore diciamo lavoro inverso a quello che di soldo si fa adesso adesso prima si scava e poi si semina e poi si chiude prima che facevano prima buttavano il seme e poi scavavano era una tipologia diversa di quindi quando tu buttavi il seme tra un giorno e l'altro che a volte poi si doveva scavare per far andare il seme giù poteva succedere che o qualcuno passando schiacciava il seme o gli uccelli ancora peggio passavano e derubavano il seme questi uccelli che non a caso gesù li usa che vengono dall'alto sono identificati come il diavolo quindi il diavolo che viene e ruba derubba la parola di dio dai nostri cuori quindi dobbiamo essere consapevole poi vedremo come lo fa la mia cosa dobbiamo capire che ogni volta che leggiamo la parola di dio la nostra tendenza può essere quella che facilmente ci facciamo derubare nella nostra mente nei nostri cuori quella che è la verità della parola di dio poi le altre cose qual erano che gesù spiega così bene dice ci sono alcuni invece che hanno un terreno roccioso quindi la parola arriva ma non riesce a far penetrare la parola di dio non riesce a penetrare a mettere radici profonde fanno radici piccole perché entrano un po nella roccia ma poi arrivano le prove arrivano le situazioni le difficoltà i venti le tempeste logicamente l'alberello la piantina non ha abbastanza radice e viene spiazzata e muore l'altro invece è attorno alle spine e questo su queste spine poi vedremo di cosa si tratta gesù le identifica come preoccupazioni ricchezze e i piaceri della vita è una dei verbo che usa molto interessante proprio è soffoca la parola di dio cioè quando la parola di dio arriva nella nostra vita ci sono varie cose che possono letteralmente avete presento il soffocamento cioè non far più respirare il seme della parola di dio nella nostra vita la cosa invece meravigliosa poi dell'ultimo terreno è che addirittura produce cento volte in un'altra parte di un altro vangelo dice dal 30 e il 60 e il 100 e leggevo un commentatore di questi versetti e dice che in israele non esiste il 100 nel 60 massimo può arrivare nel naturale dice quindi gesù sta usando qualcosa come se fosse di miracoloso dice se fai penetrare la parola di dio nella tua vita può produrre più di quello che nel naturale può succedere addirittura 100 volte quello che hai seminato ma lui dice che se la parola di dio prende e supera gli uccelli supera le rocce supera il soffocamento allora se produce quello che deve produrre addirittura può arrivare al 100 per cento produrre grande frutto nella nostra vita quindi la prima cosa dobbiamo comprendere è che ci abbiamo un nemico molto forte che ogni volta che la domenica mattina o quando siamo radunati davanti alla parola di dio o nelle nostre geom che discutiamo la parola non vuole che questa parola faccia breccia nel nostro cuore non significa non comprenderla ma che non diventi efficace perché a lui va bene che tu comprendi le dottrine della scrittura anche lui le conosce forse anche meglio di noi a lui va bene che a livello mentale di comprensione non di conoscenza vedremo la differenza tra comprendere e conoscere va bene che certe cose le assimiliamo che non è che tu legge non capisci no legge e capisci ma non diventa mai realtà non diventa mai verità nella tua vita perché perché ci sono cose nella nostra mente che o stanno soffocando o stanno rubando uccelli del cielo o stanno non stanno facendo mettere delle radici profonde della parola di dio nella nostra vita martin lutero una volta fece un bel esempio disse io non posso evitare che un uccello mi pasti per testa e mi faccia la cacca addosso non lo posso evitare non posso evitare che a volte succede che passano mi volano e lanciano una bomba del genere un uccellino che va e mi colpisce sulla spalla o addirittura in testa ma quello che posso evitare è che un uccello prenda e il nido il suo nido sulla mia testa se quello succede significa che io passano passivo all'attacco quello che l'uccellino sa per fare non possiamo evitare che il diavolo cerchi di derubare la nostra vita nella tentazione nelle situazioni che ci accadono ma possiamo evitare che queste facciano breccia nel nostro cuore che facciano nido nelle nostre menti l'altra questione dove mi voglio soffermare un po di più è il piantare la bugia lui non solo ruba la verità ma lui pianta la bugia quindi è un lavoro doppio che fa il nostro nemico non solo toglie il seme della verità ma ne vuole piantare un altro ed è questa che viene chiamata menzogna o bugia nella parola di dio e qui voglio soffermarmi un po di più leggiamo un verso dove gesù sta dibattendo con i farisei in modo molto acceso e senza fare tutta la lettura gesù sta discutendo con loro e loro a un certo punto dice ma noi siamo figli di abramo ma che ci vuoi dire tu si mettono su una posizione di superiorità anzi chiamano gesù bastardo la parola greca dove la bibbia traduce illegittimo ma dovrebbe essere tradotto bastardo tu sei un bastardo che non si sa manco chi è tuo padre la storia dello spirito santo qua non se l'è creduto nessuno giustamente chi sa avrebbe mai potuto credere che una donna diceva sono rimasta incinta per lo spirito santo ma chi ce la vuoi far credere un paesino tu sei un bastardo chissà chi è tuo padre quel giuseppe ti ha coperto ma chissà no se oggi ancora queste cose sono diciamo fanno scalpore figuratevi duemila anni fa che potevano fare e gesù quindi sta dibattendo loro si mettono su un piano di superiorità dice noi siamo figli di abramo sappiamo bene da dove discendiamo siamo figli della promessia siamo figli di dio tu ci vuoi insegnare a noi che sei un bastardo perdonatemi questo termine ma è quello che loro usano e gesù a un certo punto dice voi se fosse veramente figli di abramo mi ascoltereste perché abramo parlava di chi io sono e di chi è mio padre ma voi siete invece figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui quando dice il falso parla di quel che è suo perché è bugiardo ed è padre della menzogna allora comprendiamo subito chi è questo nostro nemico sapete tutti i termini che vengono usato diabolos satana non sono i nomi sono aggettivi di quello che il diavolo satana per esempio vuol dire l'accusatore quello che l'ingannatore quello che è facile a ingannare le persone e come lo fa se lui è padre della menzogna se lui è padre della bugia come lo fa con la bugia perché lui non ha in sé verità quindi qualsiasi cosa lui dica e faccia non è conforme a quella che è la verità di dio perché in lui non c'è e quindi quello che lui può produrre è solamente verità l'opposto è dio dio è verità e lui non c'è nessun tenebre nessun ombra e può produrre solo verità quindi in altre parole gesù sta dicendo che c'è un seme del padre che produce figli di dio nella verità e c'è un seme di un altro padre che il padre della menzogna che produce figli che vivono nella menzogna o che produce bugie che entra nel nostro nelle nostre mente sempre evagrio dice la lotta contro le tentazioni demoniache è in realtà una lotta contro i cosiddetti logismoi lui usa un termine greco che si vuol dire pensieri modelli di pensiero narrazioni interne o strutture di credenze quindi lui sta dicendo che il nemico attraverso le sue menzogne che fa arrivare nei nostri pensieri crea delle strutture di pensiero che lui chiamava evagrio illogismoi cioè sono insieme di pensieri che producono una credenza che producono modi di essere e modi di pensare nella nostra mente mi state seguendo non è il pensiero che va e viene sono strutture mentali che vengono create dalle menzogne del nemico che entrano nella nostra vita queste rappresentano il contenuto del nostro pensiero e i riferimenti mentali che utilizziamo per orientarci nella vita cioè queste cose che noi assimiliamo poi ci servono come timone come bussola per muoverci nella vita e se questo timone è spinto dalla menzogna la nostra vita è una menzogna la nostra vita non è reale la nostra vita è in contrasto con la verità non so se è un po di filosofia però non so se ci sta se sta arrivando evagrio dice i logismoi ho lasciato questo termine perché in italiano non si traduce proprio benissimo spero di aver dato l'idea non erano semplicemente pensieri sì da dove deriva la parola la logica logismoi ma pensieri animati da una volontà maligna una forza oscura e malefica quindi evagrio diceva non sono solo cose che vengono partorite la nostra carne la nostra carne fa la sua parte ma esse vengono anche partorite e seminate dal padre della menzogna che poi trova nella nostra carne terreno fertile nei nostri desideri disordinati queste menzogne trovano del terreno fertile ci stiamo la nostra battaglia quindi contro il diavolo è innanzitutto una battaglia per riprendere il controllo delle nostre menti dalla loro schiavitù alle menzogne e liberarle con l'arma della verità lui è il padre della menzogna c'è è l'origine dell'inganno è l'ingannatore tra poco leggeremo genesi 3 e vedremo l'astuzia come funziona molto bene nel suo caso sia in adamo ed eva e poi vedremo in luca 4 come gesù vince invece l'inganno quando era nel deserto ma allora dobbiamo comprendere prima come funziona come lavora questo nostro nemico lui cosa fa cerca di distoglierci dalla verità ho dato una definizione è la realtà o ciò che corrisponde alla realtà io ci aggiungo per noi credenti di dio quando diciamo che una persona ha detto una bugia stiamo dicendo non hai detto quello che è vero hai detto qualcosa che non è conforme alla verità se io dico vicino a mio a mio figlio hai preso tu quella cosa lui dice no non l'ho presa se sta mentendo sta dicendo che la realtà dei fatti lui non la vuole ammettere giusto la menzogna fa questo va a contrastare la verità e la realtà nella nostra vita nel nostro caso specifico nella verità di dio come funziona la strategia del diavolo si inizia con delle bugie delle menzogne che possono arrivare da sorgenti diverse vedremo alcuni casi dopo queste diventano modelli di pensiero come li chiamava evagrio illogismoi cioè fortezze mentali modi di vedere e modi di credere che non sono ispirati dalla parola di dio ma sono ispirati dalle nostre esperienze o dalle ispirazioni demoniache cioè idee che circolano nella nostra società sono anche accolte dalla maggior parte della società ma non sono della parola di dio e potrei fare un elenco lunghissimo questi una volta incamerati una volta che diventano modi di pensare diventano atteggiamenti azioni perché io quello che faccio è quello che credo noi agiamo in un certo modo perché abbiamo già sviluppato un pensiero nella nostra vita se io penso e poi agisco così funziona non agisco e poi penso a parte qualcuno ma di solito la maggior parte di noi prima partoriamo l'azione nella nostra vita e poi la facciamo prima esso parte dal pensiero e poi diventa un atteggiamento e una un'azione e poi secondo gesù il padre della menzogna un solo e unico scopo vuole demolire le nostre menti demolire la nostra vita demolire il proposito di dio nel nostro cuore demolire la direzione che dio ha per noi demolire i nostri talenti demolire i nostri scopi tutto quello che dio ha progettato nella nostra vita il suo scopo primario è demolirci perché non lo può fare con dio lo vuole fare con noi lui sa che l'unico modo che può rallentare il piano di dio è rallentare i suoi figli perché dio non può essere toccato non ha nessuna chance ma con i suoi figli sì quindi avete compreso come spero di essere toccato come funziona parte il pensiero una bugia diventa un modello di pensiero diventa una fortezza esso diventa atteggiamento azione e questa azione se corrisponde alla menzogna diventa distruzione a lungo termine per la nostra vita ci siamo potremmo dire al contrario della verità anche la verità anche essa crea il modello di pensiero crea una fortezza in questo caso una buona fortezza crea degli atteggiamenti e le azioni ma che ci portano alla vita non alla distruzione dice il filosofo Dallas Willard dice che le nostre mappe mentali sono formate da una serie di idee presupposti sulla realtà cioè in modo in cui io guardo delle determinate cose attraverso delle idee che mi sono fatte sulle persone sulle relazioni su la mia nazione sulla mia città sulla mia chiesa sulle persone che mi sono a fianco sui miei collaboratori sulle persone che lavorano con me sugli amici a fianco di banco tutte idee che mi sono fatte che creano delle mappe mentali cioè avete presente google maps per chi è venuto qua e ha messo il navigatore sono vere e proprie strade che si creano che ci portano a delle destinazioni se queste mappe sono partite da una bugia dicevo mio professore il problema dell'inganno è che è ingannevole non te ne accorgi non è così facile capire che stai vivendo o hai delle idee e offertezze nella tua vita che sono partorite dalla menzogna perciò vedremo che dobbiamo stare molto attaccati alla prova di Dio e a Gesù perché siamo facilmente ingannati se lo erano fratelli ascoltatemi Adamo ed Eva in un luogo paradisiago dove non c'era ancora il peccato e avevano contatto con Dio sono stati ingannati dal serpente quanto più noi che abbiamo una natura peccaminosa possiamo essere facilmente ingannati dal nostro nemico questi presupposti sulla realtà ci fanno pensare e credere cose che poi nella realtà non ci sono quante volte abbiamo partorito delle idee per poi confrontarci con la realtà che non erano così a me è successo tantissime volte perché la menzogna fa questo ti fa creare partorire situazioni mentali che che non corrispondono alla realtà di Dio ma che per te sono 100% sì e questo è l'inganno che è ingannevole vi voglio spiegare meglio il nostro cervello è capace di credere a menzogne e illusioni anche se irreali cioè noi crediamo una cosa così forte che anche se essa non è reale nella nostra vita nella nostra mente è reale perché questo aspetto qua è anche nel positivo persone che hanno immaginato cose che poi le hanno create fa parte anche della creatività e dell'ingegno umano io conosco tantissimi amici che sono ingegneri informatici che l'app che hanno creato del cellulare che poi ha spopolato l'hanno usata miliardi persone e hanno fatto tantissimi soldi l'avevano prima pensata però l'avevano immaginata quando non era ancora realtà così come un architetto che ti fa una casa lui la deve prima immaginare e poi si mette a costruire la deve prima creare nella sua mente poi la mette su carta e poi eventualmente chiamerà la ditta per fare quello che quindi la nostra mente è creata in modo che può immaginare cose che non sono ancora reali questo nel bene nella creatività ma nel negativo purtroppo può essere ingannata in tal modo da immaginare illusionarsi di vedere cose che non ci sono ma che sono reali nella nostra non so se mi sto se mi sto spiegando abbiamo la capacità di custodire nella nostra mente qualcosa che non esiste ancora e poi tramite il nostro corpo darle vita nel bene e nel mare la maggior parte per esempio delle persone che divorziano l'hanno prima pensato qui dentro e poi lo mettono in atto la maggior parte delle persone che fanno un abuso l'hanno prima pensato qua dentro e poi lo fanno la maggior parte delle persone che fanno qualcosa di buono non per forza nel negativo prima parte nella loro mente e poi diventa una realtà prima è irreale nel senso non è ancora attuato non è ancora realtà ma è già partorito nella nostra mente non so se mi sto spiegando questa capacità è sia il nostro punto di forza e sia il nostro punto debole io posso avere un sogno da parte di Dio è immaginare un orfanotrofio insomma mi è venuta così vedo davanti a me migliaia di bambini presi dalle strade in questo orfanotrofio lo sto immaginando perché viene da una parola di Dio non so dalla profezia da un bisogno da un sogno di Dio mettetela come volete ma da qualcosa che proviene dalla da Dio io la vedo anche se non c'è e cammino in essa finché esso diventa realtà la stessa cosa però può fare il nemico può inserire nella nostra mente delle bugie tali da farci camminare per realizzare determinate cose che partono da una completa menzogna e passiamo per finire per crederci a certe cose e quando le credi diventano logismoi fortezze mentali che sono difficili da smantellare avete mai parlato con una persona che è profondamente razzista vai a smantellare quelle idee contro la razza contro le persone di altre etnie sono dei modi di pensare partoriti da una menzogna così radicati che spezzare certe cose è veramente difficile veramente difficile oppure anche potremmo fare esempi un po più banali modi di fare e modi di essere che sono così impregnati nella nostra cultura che tutti lo fanno che anche se la bibbia palesemente contraddice non riusciamo a fare diversamente diciamo ma tutti fanno così nel mio paese tutti fanno così nella mia città anche se palesemente la bibbia dice il contrario non riesci a distruggere il logismo nella tua vita perché perché è una fortezza fa parte la cultura e quando la cultura è così forte diventa qualcosa che è un'idea falsa o addirittura una menzogna ci siamo non tutte le bugie sono pericolose solo quelle a cui ci crediamo è la bugia che fa posto nella nostra mente quella che è pericolosa quando crediamo a menzogne idee che non sono in linea con la realtà del disegno di dio della volontà di dio e poi apriamo i nostri corpi a queste menzogne permettiamo questa è una frase john mark homer permettiamo a un cancro ideologico di infettare le nostre anime vivere in contrasto con la realtà ci impedisce di prosperare faccio un esempio che stiamo vivendo nelle nella nostra società il cambiamento di come viene visto il matrimonio no sempre storicamente è stato tra uomo e donna adesso le nuove idee perché da lì è la battaglia non è con le persone la battaglia sono le idee molti purtroppo cristiani scendono in piazza per fare guerra contro le persone la abbiamo perso due volte non una due volte quando poi si scende in piazza io sono contro loro e loro contro di me abbiamo perso come cristiani due volte senza comprendere che la battaglia è ideologica e delle idee è spirituale logicamente sono idee che formano fortezze che formano cultura e modi di fare quando le persone adesso in senso largo cominciano a cambiare idea sul matrimonio sul come allevare i figli su come vivere la propria vita su come gestire il denaro come gestire le relazioni potremmo fare esempi all'infinito queste menzogne cambiano un'intera cultura e cambiano intere nazioni noi a volte pensiamo al nazismo no ricordate non sono passati tantissimi anni parliamo del secolo scorso 70 anni la germania dell'epoca molti sociologi sono d'accordo era l'elite a livello di filosofia ingegneria economia stava molto più in alto degli stati uniti e altri grandi nazioni europee pure a livello religioso lì parte la riforma lì c'era martillutelo io c'ero sono stati riformatori quindi a livello umano potremmo dire era una nazione che forse era all'avanguardia rispetto a tante altre pure siamo mai chiesti com'è possibile perché hitler non ha vinto come dittatore è stato votato cioè è stato scelto da un popolo perché perché le idee state seguendo cambiano il modo di pensare di votare o tantissime altre cose il nemico dove ha fatto il suo buon lavoro nel caso della germania potremmo fare tantissimi altre nella disinformazione nelle false notizie voglio farvi capire che la bugia non è il ciuccio che vola che quella nessuno ci crederebbe non siamo così stupiti a parte qualche complottista ma la maggior parte delle bugie quelle che fanno effetto sono 90 per cento vera e 10 per cento falsa una cosa che è 90 per cento vera e 10 per cento falsa è vera o è falsa è falsa quella è quella che fa è efficace e quella è quella che penetra nella nostra mente dove ci fa soffermare più sulla parte vera che quel pubbè ma è solo il 10 per cento probabilmente quel 10 per cento invece è il nocciolo della questione ma non riusciamo a vedere il nemico è astuto lui non è onnipresente non è onnipotente come il nostro dio non c'è paragone a volte vedo quelle immagini a volte girano pure su facebook dove gesù e il diavolo fanno braccio di ferro non c'è proprio braccio di ferro gesù con un soffio lo sbatte all'aria quindi non esiste non c'è la battaglia dove gesù deve soffrire deve buttarlo giù ha già fatto una volta e basta però però il nostro nemico non essendo onnipresente non essendo onnipotente però ha sulle sue spalle diceva un teologo tanti anni di esperienza nel tentare l'uomo migliaia di anni nel tentare che ci conosce molto bene conosce le nostre idee molto bene e sa che quello che ha funzionato qua damma ed eva funziona anche con noi perché ci siamo evoluti tecnologicamente ma l'intelligenza è sempre quello abbiamo una falsa idea legge un sociologo diceva che abbiamo una falsa idea che progrediamo di intelligenza no no progrediamo forse al vero di conoscenza delle cose che sappiamo ma non di quanto più intelligenti siamo e quindi il nemico ha le sue strategie che purtroppo funzionano da migliaia di anni e ancora fanno braccio e lui ha capito che la menzogna per fare effetto deve avere una grossa fetta di essa che è verità che è realtà è una piccola parte che è bugia ed è lì che fa briccia nel nostro cuore è da lì che noi apriamo le nostre menti per ricevala è da lì che le mettiamo in atto faccio un esempio questo può toccare più qualche giovane ma non escludo qualche adulto ad esempio supponi di credere alla bugia secondo cui sei incapace di essere amato una convinzione che avresti potuto acquisire in un momento qualsiasi del tuo percorso di vita forse un rapporto interrotto con i tuoi genitori forse una rottura sentimentale del passato forse un fallimento o addirittura una menzogna demoniaca nella tua mente o altrove se lasci che questa menzogna penetri nel tuo corpo nella tua mente nella tua neurobiologia permetta che essa modelli il tuo comportamento pensate che non sia in realtà ci sono tante persone che profondamente pensano che non possono essere veramente amate forse non lo dichiarano apertamente ma nel loro subconscio nel loro modo di credere di loro stessi veramente lo pensa poiché non credi di essere degno di amore permetterai a persone di trattarti in modi che sono irrispettosi e denigratori perché non pensi di essere una persona amabile quindi per te va bene se ti trattano in quel modo non ti piace lo già nessuno piace ma quasi te ne fai una ragione perché perché hai dei logismoi nella tua testa che ti fanno pensare questo oppure agisci in modo irrispettoso e denigratorio nei confronti degli altri perché pensi che quella bugia sei tu questo è il potere della bugia che quando prende piede diventa identità se vivi abbastanza a lungo questa menzogna tragicamente ciò che era falso inizia a diventare vero spesso abbiamo sentito questa frase no se è una menzogna dici tante volte poi la gente comincia a credere che è vera abbiamo sentito questa frase se la ripeti abbastanza volte la gente comincerà a dire però secondo me è realtà e così fa il nostro nemico te la ripete così tante volte finché non la incameri e ci crei la fortezza e quando diventa fortezza diventa azione non solo nel ricevere da parte degli altri ma anche nel dare verso gli altri alla fine diventi il tipo di persona che non è degna di amore e di rispetto cioè la bugia è così forte che ti trasforma poi in quella persona diventi quello che non volevi essere o che quello che hai creduto inizialmente e ti allontani dalle relazioni che desideri cioè il serpente è così astuto e alcuni dicono creativo la bugia non è che lui sussurra la bugia è un padre che ti ha fatto del male la bugia può essere il bullismo nella scuola la bugia può essere un datore di lavoro che ti scredita continuamente e ci mettiamo pure la chiesa la chiesa può essere dei leader che non ti hanno saputo incoraggiare che ti hanno sempre schiacciato parlo in senso largo queste possono essere modi in cui il serpente può usare delle menzogne nella tua vita che esse poi credute partoriscono te ti cambia cambia nel tuo modo di e non è facile quando essa sono incarnate perché come la parola diventa carne in noi prende possesso anche la bugia fa la stessa cosa si incarna nella nostra vita cioè ci trasforma in quello che abbiamo pensato e abbiamo creduto questa è una vera e propria guerra se non lo capriamo non avremo la forza per respingere determinate cose questo fratelli non è un esercizio che finisce con uno studio questa è una vita di battaglia di conoscenza della verità ed anche di conoscenza della menzogna uno dei libri più adesso non mi ricordo il titolo mi sembra l'arte della battaglia scritto da un generale cinese adesso non mi ricordo il nome è tipo Tzu qualcosa con Tzu fa di cognome ed è uno dei libri più usati per le guerre lui è stato un grande maestro di guerra e lui dice se conosci il tuo potenziale ma non il tuo nemico la sconfitta è dal 60 al 70% se conosci solo il tuo nemico ma non conosci il tuo potenziale la sconfitta è al 50-40% ma se conosci il tuo potenziale conosci anche il tuo nemico allora sarai vittorioso noi non siamo di quelli che sono fissati con i demoni con il diavolo perché poi a volte si può cadere in quest'altra trappola diceva C.S. Lewis il nemico è stato così astuto da preparare due trappole una dove la gente non crede più che egli esista la più grande trappola l'altra invece che diventa troppo importante quasi più di Gesù dove la gente è fissata e vedono demoni ovunque l'idea di e noi non siamo di questa fascia che non crediamo anche se a volte viviamo come se non ci crediamo più però non vogliamo neanche cadere nell'altra trappola di pensare che tutto sia però non vogliamo neanche escluderle entrambi vogliamo essere equilibrati e comprendere che certe menzogne sono partorite dal nostro nemico Dallas Willard dice le idee sono una roccaforte primaria del male nell'individuo e nella società e sempre Evagrio diceva le idee sono entità spirituali che schiavizzano le nostre anime vedete sia Willard dice che è qualcosa che partorisce dal male Evagrio un po' più medievale quindi un po' più schietto dice sono entità spirituali sono idee che vengono partorite dal male quando Paolo per esempio in Efesini 6 fa la lista dei principali delle potestate secondo voi questa gente che fa? partoriscono idee partoriscono ideologie mettono nazioni contro nazioni razze contro razze popoli contro popoli partoriscono odio inimicizie rancori che sto fanno? sì ci sono anche le questioni il demone che si impossessa di una persona certo ma la maggior parte delle persone non saranno demonizzate o indemoniate ma saranno influenzate dalle idee che sono partorite da queste persone molti mi chiedono ma se uno è legato alla pornografia il tema che è tratto spesso è schiavo dei demoni io dico guarda raramente può succedere ma nella maggior parte non è così ma è influenzato dai demoni perché il porno in sé nasce da un'idea di questi spiriti sono loro che ispirano certe cose l'uomo è malvagio ma certe cose sono fatte solo perché è ispirato da menzogne menzogne come un uomo adulto rimproverato duramente dal padre che finisce per credere di essere apprezzato solo per suo successo lavorativo io li vedo tanti sono quelli che chiamano i workaholic quelli che sono alcolizzati di lavoro dipendenti dal lavoro che la loro identità è basata sul lavoro se producono si sentono realizzati se non producono non si sentono realizzati non so se le conoscete o avete vissuto dei momenti così nella vostra vita che la vostra identità è il lavoro se io produco sono allora mi sento di valore essere valorizzato perché forse nel passato ho avuto un esempio tra tantissimi un padre che diceva il 6 non va bene mi devi portare il 10 solo quando mi porti il 10 ti dico che ti voglio bene solo quando mi porti 10 ti dico che sei bravo il tuo valore è un numero il tuo valore è quello che produci è quello che fai è quello che realizzi è il successo che porti a casa queste idee prendono il sopravvento si incarnano diventano logismoi fortezze che producono persone che vivono per il lavoro non significa che lavorare è una cosa negativa ma se il tuo lavoro è quello che ti dà identità e poi lo perdi o le cose non vanno bene o Dio ti chiede di tagliare un po' del lavoro per dedicarlo più all'opera del Signore allora vai in difficoltà se l'opera di Dio ti spinge a lasciarlo se il tuo la tua identità mi stai comprendendo è un esempio nessuno si sente chiamato in causa però ognuno analizzi se c'è una bugia nella sua mente che la parola di Dio ci serve a questo oppure una ragazza adolescente ma anche meno adolescente direi che si confronta con l'illusione di perfezione delle immagini che vede sui social su Instagram delle modelle dei corpi perfetti e si convince di essere brutta e indegna di amore e quindi potenzialmente si lascerà abbindolare dal primo che capita che gli dirà che sei bella senza guardare se quella persona ama il Signore se guardare se quella persona ha un futuro per lei se quella persona veramente lo ama no è così impregnata dalla menzogna che si farà trattare come la menzogna stessa mi state seguendo e ci mettiamo pure noi un ministro insicuro che basa tutto il suo valore della sua vita sul ruolo ministeriale se mi tolgono il compito sono morto ce ne sono tanti così conosciuti personalmente così insicuri che il loro ministerio è la loro rivalsa sociale e che se glielo togli si sentono morire come se la loro identità in Cristo dipendesse se vanno o no dietro un pulpito questo è un gravissimo pericolo ma può valere anche a livelli più bassi che a volte può succedere che nella corso della vita cristiana Dio ti chiama a fare un'altra cosa o gli anziani pensano che sia meglio che tu ti sposti persone dicono no non mi togliere questa cosa perché ho basato tutta la mia identità il mio valore su questa cosa che faccio la domenica mattina e il giovedì sera o quello che sia è insicurezza è la bugia che ha preso piede che è mascherata da quello che facciamo dall'applausimo l'applausino che prendiamo a volte dall'uomo che ci fa sentire sazi ma non ci rendiamo conto che stiamo intrappolati da una menzogna che la nostra identità non è in Dio non è la verità ma in quello che stiamo facendo per gli altri ci siamo? è un imprenditore il cui precedente business è fallito a causa del tradimento di un socio che ora pensa che ogni suo futuro tentativo sarà un fallimento è una donna di mezza età cresciuta da una madre perfezionista irrascibile che anche dopo decenni crede ancora di dover essere perfetta per trovare la pace possono essere tanti i modi in cui il serpente antico ci dice la bugia non è la frasina comprendete? è molto più sottile viene attraverso comportamenti specialmente anche quando eravamo più vulnerabili nella nostra età dell'infanzia dell'adolescenza e non solo e non solo e a volte vedi persone anche di una età ormai che dovrebbero essere persone cosiddette come diciamo noi fatte adulte che vivono delle mancanze così grandi prodotte da menzogne che hanno incamerato nel passato e che adesso hanno prodotto una identità così forte che è difficile da smantellare non impossibile ma difficile quando Gesù disse conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi stava dicendo anche il contrario che chi non conosce la verità è schiavo della menzogna comprendete il discorso di Gesù la verità ci rende liberi ma la non verità ci rende schiavi e forse noi non siamo schiavi completamente ma ci sono aree nella nostra vita dove la verità non è ancora penetrata e ci sentiamo schiavi di alcune cose non parlo solo delle dipendenze parlo anche di modi di pensare e di essere riguardo alla nostra identità e di quello che noi siamo Gesù disse io sono la via la verità è la vita la verità non è solamente un concetto è una persona Gesù ha detto conoscerete la verità e la verità vi farà liberi quindi la verità si può conoscere ma la conoscenza che Gesù parla non è una conoscenza greca come la vediamo noi cioè immagazzinare informazione quella è importante ma arriva fino a un certo punto la conoscenza di Gesù che Gesù parla è una conoscenza esperenziale cioè io esperimento la verità nella mia vita prima la conosco la gente se non arriva prima nell'intelletto non posso comprenderla la comprendo e poi la conosco cioè la sperimento nella nostra vita la conoscenza e la verità ha un nome si chiama Gesù io sono no io predico la verità io sono la verità e mi piace aprire una piccola parentesi anche io sono la vita molte volte ci soffermiamo sulla via per andare al padre sulla verità cosa vuol dire che Gesù è la vita che in lui noi possiamo vivere che lui è vita vera che lui è il prototipo di cosa vuol dire vivere veramente non è solo l'esempio come diceva Frediani un po' di tempo fa in chiesa da noi e lui è l'esemplare cioè non solo ci mostra come si vive ma lui ci ha fatto vedere come si vive per replicare quello che lui ha fatto non è un concerto astratto non è una filosofia non è qualcosa di trascendentale non è qualcosa di mistico è una realtà Gesù è la verità e si può conoscere e conoscendo la verità la verità ci farà liberi dalla menzogna ed è un lavoro che dura tutto la nostra vita come il diavolo pianta le bugie nella nostra mente andiamo a Genesi 3 però voglio dirvi un concetto importante che il diavolo non parla insinua e voglio spiegarvi bene la differenza la sua strategia più potente non è tanto mettere un suo pensiero nella nostra mente ma farcelo partorire a noi attraverso un seme che lui mette questa è una grande differenza perché chi è la persona che parla più a noi stessi Dio purtroppo no il diavolo purtroppo no noi a parte rari casi quando i grandi uomini di Dio raccontano che uno o due volte nella loro vita è accaduto che dove hanno sentito la voce udibile di Dio uno o due volte la maggior parte delle volte quello che senti come voce di Dio è una voce tua interna che suona come la tua voce e la devi saper distinguere se è lo spirito o sei tu ma nella maggior parte delle volte non è che Dio non parla ma Dio parla ma lo fa di solito con la voce interna quella voce interna suona al suono come la nostra è come il nostro pensiero la bravura è l'affinità l'orecchio all'udito dello spirito è saper discernere se quel sogno se quella cosa percepita se quella sensazione è divina o diabolica o nella maggior parte delle cose carnale prodotta da noi stessi però il diavolo cosa fa? lui non parla lui insinua cioè lui pianta il seme della menzogna e fa appartorire a noi il pensiero perché sa che se noi ce lo diciamo a noi stessi siamo più capaci di crederci a differenza che se noi percepiamo che quello che viene dall'esterno è demoniaco saremo più portati a respingerlo siamo più portati ad accoglierlo se invece lo piantiamo noi leggiamo oggi a Nes 3 il serpente versetto 3 avete comunque qui chi lo vuole il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che il Signore aveva fatto esso disse alla donna come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? vedete non gli dice mangia di l'albero parte da un insieme continuazione una domanda che comincia a piantare il dubbio nella mente di Eva tra l'altro Adamo ed Eva non sono nomi ma Adamo vuol dire uomo e Eva vuol dire vita il diavolo stava tentando l'uomo come l'essere umano è la vita stessa in Eva la donna rispose al serpente del frutto degli albi del giardino ne possiamo mangiare vedete come il nemico parte da una grande menzogna e disse non potete mangiare nessun albero ingigantisce la cosa una bugia una menzogna non era vero che Dio aveva detto nessun albero ha detto un albero non potete mangiare Eva risponde la vita risponde degli albi del giardino non ne possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate non lo toccate altrimenti morirete il toccate già lo sta aggiungendo lei vedete come la insinuazione partorisce il pensiero del dubbio Dio non ha mai detto non toccate l'albero ha detto non lo mangiate già sta aggiungendo un comando che Dio non aveva dato già sta cominciando a crollare già la menzogna sta cominciando a entrare a partorire i logismai le idee il serpente disse alla donna un'altra bugia no non morirete affatto ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male il diavolo ha preso il frutto e glielo ha dato non lo farà mai ce lo fa prendere sempre a noi il suo lavoro è qua fa partorire il nostro pensiero che quando poi io guardo il frutto chissà quante volte erano passate e l'hanno visto e avendo la verità nella mente hanno detto non si può mangiare anche perché avevano un'altra alternativa l'albero della vita che produceva l'immortalità l'uomo non era immortale in sé era immortale perché mangiava l'albero della vita finché l'ha mangiato era vivo per sempre una volta che non lo mangiò più diventò mortale la donna osservò quindi la bugia prende effetto che l'albero era buono per nutrirsi che era bello da vedere e l'albero era desiderabile per acquinistare conoscenza prese del frutto ne mangiò e ne dite anche il suo marito che era con lei ed egli ne mangiò sfadiamo l'idea che Adamo non c'era Adamo c'era era presentissimo e invece di proteggere la sua donna mangiò il frutto insieme con lei allora versetto 7 si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsano che erano nudi unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture interessantissimo che il primo distacco che il peccato produce non è tanto con Dio che verrà subito dopo ma è il distacco tra l'uomo e la donna la prima cosa che fecero si nascosero da loro stessi si accorsero che erano nudi avevano forse un'innocenza prima che non gli faceva notare certe cose e adesso invece si raccolgono e si nascondono poi udirono la voce di Dio il Signore il quale camminava nel giardino sul fal della sera questa una piccola parentesi mi fa capire come Dio spesso scendeva a parlare con Adam e Eva nel fal della sera e l'uomo e sua moglie si nascosero vedete due volte si nascosero dal Signore dalla presenza di Dio fra gli alberi del giardino Dio e il Signore chiamò l'uomo e disse dove sei non tanto dove sei fisicamente che Dio mi presenta ma non ti sento più potremmo tradurla così non ti sento più dove stai non è in nascondino non ti vedo cucù no no non ti sento più dove sei e gli rispose ho udito la tua voce guardate la voce di Dio che cos'è è verità ho udito la tua voce e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto perché ho accettato la bugia chi ti ha detto chi ti ha mostrato che eri nudo hai forse mangiato pensate che Dio non lo sapesse certo che lo sapesse hai forse mangiato il frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare l'uomo rispose e da qua già sono iniziati i problemi da uomo e donna è stata lei tu me l'hai messo stavamo così bello io il cane e il leone è lei che mi ha dato il frutto dell'albero e io ne ho mangiato Dio disse alla donna perché hai fatto questo la donna rispose il serpente mi ha ingannata ingannata e io ne ho mangiato nei versi precedenti abbiamo letto che il serpente era il più astuto potrebbe anche essere tradotto ingannatore era il più ingannatore e lui mi ha ingannata cioè mi ha fatto partorire un pensiero che quello che andavo a fare mi produceva del bene la seduzione funziona in tre modi la vediamo sia qui e la vediamo anche nella tentazione di Gesù nel deserto una ci vuole portare a essere indipendenti da Dio il più grande errore che fecero Adam e Eva è chiedere di essere indipendenti cioè scegliere loro cosa era buono o sbagliato per la loro vita quello che facciamo continuamente crediamo che le nostre scelte siano buone il problema diceva John Bivier non sono le nostre scelte sbagliate sono quelle buone che sono nemiche di quelle ottime che Dio ha per noi sono quelle le più pericolose perché le scelte sbagliate è facile a capirle ma sono quelle scelte buone che non sono quelle ottime che a volte Dio ha preparato e infatti il secondo punto è che ridefinisce il bene e il male è basandoci sulle voci della nostra testa ispirata dal diavolo cioè quello che io ho partorito penso che sia la scelta giusta Paolo dirà voi siete naturali perciò non comprendete le cose dello spirito molte volte noi giudichiamo le cose del Signore con le cose delle menti naturali e a volte perdonatemi giudichiamo anche le cose della Chiesa con la mente naturale e critichiamo senza comprendere che a volte dietro c'è delle scelte ci sono cose spirituali che vengono prese in considerazione non solo cose naturali il diavolo fa tre cose mette in discussione chi è Dio e lo farà sempre nella nostra vita ma veramente Dio vi ha detto c'è un'altra parola Dio non è poi così tanto buono quanto tu pensi ti sta privando di qualcosa ho postato un po' di tempo una citazione su Instagram letta in un libro e dice ogni volta che pecchiamo volontariamente stiamo pensando che quel peccato ci soddisferà più di Dio è la realtà perché abbiamo creduto una menzogna che se io mangio quella cosa se io consumo quell'adulterio se io faccio quel peccato se io prendo quella cosa se io prendo ricchezze facendo degli illeciti sarò finalmente felice bugia l'altra menzogna è chi siamo noi sarete come Dio se mangiate sarai tu a scegliere per la tua vita io sono il capitano della mia nave dice questa società io comando su me stesso tu una gente piena di successi cosa dicono io mi sono fatto da solo sono pieni di loro stessi nessuno mi ha aiutato vengono un niente e mi sono creato menzogna menzogna su menzogna quindi il diavolo metterà sempre in discussione chi è Dio chi siamo noi e come dobbiamo vivere cioè cosa ci rende felice su questo qua vorrei spendere due ore per parlare di questo no veramente è una riflessione che faccio da tanto tempo la nostra ricerca della felicità è spesso basata lo dico pure per me su menzogne su bugie siamo diventati così intolleranti alla sofferenza che non riusciamo a sopportare niente perché pensiamo che la felicità sia l'assenza della sofferenza ma non è così Giovanni Battista che dà la sua testa per la verità era felice oppure no forse lì per lì quando gli hanno tirato la testa non è stato proprio il momento più bello della sua vita ma quando Gesù ha parlato di lui chi avete visto nel deserto non era una cannetta che si fa sbattere dal vento Giovanni non è uno che va dietro alle mode ai venti alle chiacchiere è una roccia ferma nel deserto è una voce che grida è una lampada ardente è splendente e tutti noi avremmo detto nel deserto non si può essere felice Giovanni sì Giovanni era felice lì e più avanti Gesù dirà che lui è stato il più grande di tutti i profeti senza fare mai un miracolo senza fare mai una profezia solo ha preparato la via del Signore predicando il ravvedimento e il battesimo in acqua è stato il più grande di tutti cosa ci rende felici è un grande inganno che a volte accettiamo io sono il primo tante cose che pensiamo ci porteranno alla felicità e sono menzogne vere e proprie ma le incameriamo così tanto perché la società ce le propina è tutto legato a una felicità irreale creata nella nostra testa che il nemico ha partorito con le sue menzogne ma è così forte quell'illusione che ci fa credere che se finalmente avrò quella cosa sarò finalmente felice ci siamo fratelli questo è un inganno che può colpire tutti quanti noi nel lavoro nelle relazioni tra di noi nel fare la corsa a certe cose sono menzogne seduzioni insinuazioni del nemico che vengono e partoriscono nella nostra testa concludiamo se no mi state stancando vincere le bugie nella nostra mente come facciamo luca 4 gesù pieno di spirito santo ritornò dal giordano e fu condotto dallo spirito nel deserto per 40 giorni vedete fu lo spirito che preparò la confrontazione questo luca 4 è come genesi 3 di nuovo è chiaro nella mente di chi sta leggendo che gesù va a ripetere quello che ad amo ha perso però questa volta non è il serpente che va da lui è gesù che va dal serpente e dove va lo va a prendere nel luogo più solitario è una battaglia uno a uno dopo 40 giorni si presenta il diavolo il diavolo non arriva al primo giorno arriva al quarantesimo perché il nemico è astuto non arriva nel pieno della forza non arriverà il lunedì quando torniamo dal campeggio che siamo belli arzilli e pieni di spirito arriverà dopo un mesetto e mezzo o due o anche tre o facciamo pure 40 giorni dopo quando ricomincia la routine lavorativa la routine familiare le battaglie eh no la scuola universitale le pressioni arriva lì non aspetta non arriva il lunedì perché sa non mi presento nella forza Gesù aveva fame perché da uomo subiva le stesse cose che subiamo noi il diavolo gli disse sei tu figlio di Dio dico a questa pietra che diventi pane e Gesù tutte e tre volte cita la parola di Dio il libro preferito di Gesù che cita tantissime volte è Deuteronomio sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola di Dio in altre parole non posso accettare questa menzogna perché io vivo della verità io vivo della parola di Dio tu stai questionando la mia identità sei sei figlio di Dio vedete l'attacco è sempre sull'identità se tu sei il figlio di Dio allora avresti il potere di trasformare questa pietra in pane Gesù ce l'aveva questo potere certo ma non era la volontà del padre l'avrei voluto fare certo ma non era la volontà del padre che Gesù disse io faccio un po' più avanti dirà io faccio solo quello che vedo il padre fare questo è il livello più massimo di spiritualità che possiamo arrivare tutti quanti noi fare solo quello che vediamo che il padre fa il diavolo lo condusse in alto rimostrò tutti i regni del mondo e gli disse ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché essa mi è stata data un alto attacco prima è chi è Dio adesso qual è la seconda mi ricordate chi sei tu tu sei il re tu sei venuto per questi regni io lo so perché le conosceva le profezie messianiche il diavolo conosceva tu sei venuto per i regni te li do io non conosceva la croce non poteva immaginarla però sapeva che in un modo o nell'altro Gesù si era venuto a prendere i regni se sapriva della croce non l'avrebbe ucciso logicamente Paolo lo dirà se i principali delle potestà avessero capito la croce non l'avrebbero mai ucciso Gesù ho ispirato i farisei romani a crocifiggerlo però sapeva che il suo compito era quello dice non ti preoccupare qualsiasi sia la strada che tuo padre ha per te io ho una scorciatoia basta che ti inginocchi un attimo una cosa semplice siamo in alto forse ti ha fatto vedere tutti gli imperi romani l'impero romano quelli che poi saranno venuti dopo le potenze economiche di oggi e ha fatto vedere dice vedi questo questo mi appartiene io sono il principe di questo mondo principe è un termine greco che vuol dire un'autorità su questi regni sono i miei i miei sono stati dati dall'uomo stesso se ne vuoi te li do ti darò questa potenza è la gloria di questi regni perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio ed è la stessa tentazione che dà a noi a noi non ci dà tutti i regni ma ad alcuni uomini politici glieli ha dati a che prezzo guerre genocidi morte distruzione povertà a che prezzo queste glorie umane a noi ci tenterà con cose più piccole ma l'idea è sempre la stessa vuoi una cosa io te la posso dare ma tu mi devi dare qualcosa in cambio non esiste grazia nel nemico non c'è grazia che lui ci dà quello che non meritiamo il diavolo ci dà solo quello che ci meritiamo tu vuoi mi devi dare se dunque tu ti prostri e mi adori sarà tutta tua Gesù rispose vattene via da me Satana sta scritto adora il Signore Dio tuo e rendi a solo lui rendi il culto l'ultima tensazione allora Gesù allora lo portò a Gerusalemme lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse se tu sei figlio Dio gettati giù da qui perché sta scritto e gli darà ordine ai suoi angeli a tuo rigardo di proteggerti qual è la terza cosa cosa ci rende felice buttati buttati se sei figlio di Dio buttati che tuo padre ti protegge se sei figlio di Dio prendi quest'altra strada vedi che è quella che Dio ha per te ma no Dio mi ha detto qualche altra cosa ma tu lì troverai la protezione la felicità buttati Gesù rispose non tentare il Signore Dio allora il diavolo dopo aver finito ogni tentazione si allontanò da lui fino ad un nuovo momento opportuno sempre il momento opportuno Gesù vince in tre modi in quattro modi e concludiamo la verità della Bibbia tutte e tre volte sta scritto sta scritto non possiamo vincere le bugie se non conosciamo la parola se non conosciamo bene la verità non possiamo contrastare le bugie una verità che si va ascoltata dalle predicazioni degli insegnamenti amen ma una verità che anche va coltivata a livello personale perché non sempre riceverete dalla predicazione agli insegnamenti quello che tu hai bisogno in quel momento perché la Chiesa è grande e Dio può mettere un messaggio per una parte della Chiesa ma non tutta o non nel caso tuo specifico ma a volte hai bisogno che tu ricerchi la verità per il tuo caso specifico tutte e tre volte Gesù risponde con un versetto della parola di Dio e se vedete il nemico pure ha citato la parola di Dio manipolandola sembra la questione il 90% vero e il 10% falso sì era vero che stava scritto che non inciamperà il tuo piede ma Gesù dice sì ma non è che ti butti non è che tenti Dio non è che ci provi tu se dovessi accadere Dio ti protegge ma non te le vai a cercare determinate cose quindi la verità il secondo è l'identità in Cristo il capitolo prima Gesù è stato battezzato è una voce è scesa dal cielo che ha detto questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto Gesù sapeva di questa cosa già prima è certo è certo ma da uomo aveva bisogno di sentirsela dire dal padre aveva bisogno da uomo che lo spirito santo discendesse su di lui fino a quel punto Gesù aveva fatto qualche insegnamento no aveva fatto qualche miracolo resurrezioni moltiplicazioni di pane e pesci niente non aveva ancora iniziato niente aveva fatto per 30 anni il falegname col padre in un piccolo paesino sconosciuto nessuno sapeva l'unica cosa che sappiamo è che a 12 anni fece un po' di problemucci nel tempio li mise tutti a K.O. a quella i dottori 12 anni conosceva meglio la parola di Dio di loro e poi non sappiamo niente tutti gli anni probabilmente a leggere la Bibbia memorizzarla come buon rabbino studiare la scrittura lavorare col padre però il papà gli dice il padre celeste in questa volta dice io sono compiaciuto in te per vincere le menzogne del diavolo la prima cosa che dobbiamo capire è che la nostra identità di figli di Dio non dipende da quello che facciamo o da quello che diciamo ma da chi siamo quando capisci quello le altre due cose vengono di conseguenza logicamente il nostro fare è prodotto dal chi siamo non il viceversa se vogliamo diventare facendo cadiamo in una trappola enorme cadendo in quella trappola accettiamo una menzogna che la nostra identità e il nostro anche amore che viene da parte di Dio è prodotto da quello che noi facciamo e non dalla grazia di Dio perché noi potremmo essere i più santi tra mille virgolette di questo mondo non possiamo mai meritarci la grazia di Dio perché se è grazia è grazia però devi capire perché non è così facile quando la vita poi ti porta a vivere o a dipendere da persone da situazioni da successi personali la nostra identità in Cristo va costruita va compresa va sviluppata giorno per giorno comprendendo chi è Gesù nella nostra vita e chi siamo noi perché la domanda chi siamo noi viene sempre dopo la domanda chi è Dio dobbiamo rispondere ma tu chi sei la terza cosa che Gesù fece sapeva chi era sapeva che cosa era venuto a fare e quello lo aiutò tantissimo a rifiutare le menzogne del nemico che aveva perso sul tavolo delle scorciatoie belle e buone ma lui sapeva dove stava andando sapeva qual era lo scopo qual era il proposito che Dio aveva per la sua vita e non si è distratto un attimo questo lo ha aiutato a vincere qualsiasi tentazione e monzogna nella nostra vita se non conosci la volontà di Dio per la tua vita la devi ricercare e molte volte come si ricerca non aspettando passivamente ma facendo le cose sperimentandole vivendole servendole dove c'è il bisogno la mi tuffo e comincio a comprendere man mano quello che Dio ha per la mia vita quarto la destinazione Gesù dice sapeva da dove veniva cosa doveva fare e dove doveva ritornare questo è importante perché la vita ci porterà a delle situazioni sgradevoli nella nostra vita ma se sappiamo che Dio ha l'eternità dalla sua parte certe cose le accetteremo anche se ci fanno male perché sappiamo che fanno parte del percorso della felicità che non è solo legata agli eventi favorevoli ma legata a chi è Dio nella nostra vita è quello che ci rende felici non è solo l'assenza di problemi non è che ce ne andiamo a cercare ben vengano momenti di pace e tranquillità e dispensieratezza ma non è sempre così la vita ma la nostra destinazione ci deve aiutare a vincere le menzogne ne dobbiamo spodestare vincere con la verità quindi l'identità lo scopo la volontà del padre è la nostra destinazione questo è un processo che durerà tutta una vita la scoperta della Bibbia non è una lettura non è uno studio biblico ma è un continuo scavare e scavare questo pozzo infinito che è la scrittura l'identità in Cristo è qualcosa che durerà tutta una vita scoprire sempre di più Cristo e noi speranza di gloria scoprire sempre di più cosa significa essere figli di Dio scoprire sempre di più cosa significa servire Dio cosa significa essere re e sacerdoti cosa significa essere benedetti nei luoghi celesti cosa significa che noi abbiamo tutte le cose in Cristo Gesù cosa significano tutte queste cose che la Bibbia ci dice le abbiamo capite pure qua ma ancora non le abbiamo capite bene qual è lo scopo della nostra vita camminare alla giornata è un'idea popolare ma è una menzogna è vero che la Bibbia dice ogni giorno il suo affanno ma non significa non avere una destinazione o almeno una direzione perché senza visione non si va da nessuna parte capisco che non possiamo stare leale affannarci per quello che succederà fra dieci giorni e quello ci porterà all'ansia ma vivere per ogni giorno ogni giorno il suo affanno non significa come viene bene la vita come viene viene così la prendiamo no no significa anche pianificare attraverso quello che Dio ci ha mostrato è la destinazione eterna non mi voglio delungare ci sarebbero tante altre cose da dire ma vogliamo pregare un attimo vogliamo alzarci in piedi io concludo spero che vi abbia aiutato tutto questo dice la parola di Dio non vogliamo essere ignoranti riguardo alle macchinazioni del diavolo ce ne sono tante ma la sua arma più potente è la bugia io sono convinto di questo perché lui è il padre della menzogna e quindi vogliamo pregare in questo momento pregate insieme con me Signore nel nome di Gesù ogni menzogna che abbiamo accettato nella nostra vita Signore smascherala Signore rivelala Signore portala fuori Signore cose forse del passato cose del presente situazioni relazionali situazioni sul lavoro situazioni familiari Signore porta a galla tutto quello che è diventato lo gismoio che è diventato fortezza nella nostra vita vogliamo demolire come dice la scrittura ogni fortezza ogni pensiero che si eregge contro la verità che è la conoscenza di Cristo Signore vogliamo smantellare Signore ogni idea su di Te ogni idea su noi stessi e ogni idea su cosa vuol dire essere felici che non viene dalla Tua parola Signore vogliamo smantellare aiutaci Signore a tirare fuori anche attraverso gli insegnamenti nei prossimi giorni la predicazione a tirare fuori cose idee pensieri che non si allineano alla Tua volontà Signore che non si allineano alla Tua verità alla realtà Signore vogliamo uscire dall'illusione Signore non vogliamo essere disillusi Signore da menzogne varie che prendono possesso che si incarnano nella nostra mente Signore aiutaci a conoscere la verità essere liberi aiutaci a conoscerti Signore essere liberi da ogni preconcetto da ogni idea sbagliata Signore per farci capire chi sei tu chi siamo noi e che cosa ci rende veramente felici qual è lo scopo della nostra vita smascheriamo quest'arma potente nelle mani del nemico contro la nostra vita e come dice Isaia mettiamo la nostra mente in te ed è lì che troviamo pace ed è lì che troviamo pensieri di pace e non di male sento proprio questo per qualcuno di voi Signore dice come dice nella scrittura io ho pensieri per te di bene e non di male pensieri per farti prosperare nelle mie vie per benedirti ma rifiuta ogni menzogna rifiuta ogni bugia non dare più spazio al diavolo nei tuoi pensieri nel nome di Gesù amè grazie a tutti